Buon lunedì primo febbraio, siamo entrati nel mese della pienezza del carnevale, nei prossimi 15 giorni si celebrerà questa antichissima festa, questa ritualizzazione, questa rappresentazione gioiosa della follia in qualche maniera, dell'attenzione nei confronti della maschera che evidenzia come la nostra esistenza si svolge tra la maschera e la nostra essenza. Le maschere possono essere infinite, non solo quelle del carnevale, anche quelle che indossiamo giorno dopo giorno, i nostri stati di intossicazione, le nostre espressioni sintomatiche di una sofferenza della quale non riusciamo a dire qualcosa e rispetto alla quale non troviamo luoghi per poter essere ascoltati, queste sono maschere, sono le maschere della depressione, sono le maschere della schizofrenia, sono le maschere della follia, ma anche più semplicemente del nostro disagio esistenziale e spirituale, della nostra difficoltà ad accettare la vita per quello che è, non per assoggettarci alle condizioni date, ma semplicemente per darci la possibilità da persone libere di poter dare un contributo significativo all'evoluzione stessa della vita, diventare protagonisti e non semplicemente insensati e incapaci di riconoscere l'autoinganno che spesso si insinua nelle nostre scelte quotidiane. Ieri nei giornali online e credo anche in qualche altro media televisivo si metteva in evidenza come nel passaggio dalle zone arancione a quelle gialle, pur essendo ancora in zona arancione e nelle ore consentite ovviamente, c'è stato un crescendo di assembramenti, fatto da persone prevalentemente di giovane età, adulti, immagino ci fossero anche ragazzini, che si sono dati ai baccanali, urlavano, bevevano, le bottiglie erano nelle loro mani e ingurgitavano bevande alcoliche, inebriati. Ecco, vedo che questo tempo evidentemente è servito a poco, ma non per una responsabilità degli ubriachi di turno, ma per una mancanza di investimento da parte di chi ha il compito di governare e una mancanza di discernimento da parte dei cittadini che sono chiamati nelle democrazie a contribuire al governo della cosa pubblica. I cittadini si sono divisi tra gli indignati nei confronti delle forme di prudenza e chi invece ha vissuto molto bene questo autodistanziamento dalla relazione sociale. Quasi fosse un luogo protettivo. Evidentemente esprimevano due modalità di porsi nei confronti della vita. Uno è esuberante, un po' ocasionalmente libertina, l'altra invece un po' triste e vagamente paranoica. In entrambi i casi gli alcolici sono stati consumati in maniera crescente, con indifferenza da parte di coloro che governavano o davano informazioni sugli accadimenti. E tutto viene poi sintetizzato sulla soluzione magica, basta un vaccino e tutto è risolto. Allora attraverso questa modalità di pensiero c'è veramente una tendenza culturale a mantenere l'inganno che ha preceduto questa epidemia, l'inganno della centralità della logica dei consumi, dell'autoincatenamento attraverso le protesi chimiche. Questa nostra indisponibilità ad essere liberi, assoggettati da un modello che è politico, economico e culturale, che fa scempio della nostra libertà. E ci inchioda nella paura, attenuata nelle intossicazioni, o accolta con chiusure paranoiche, dove si mira semplicemente a stabilizzare le proprie condizioni, a renderle sicure. Paura e sicurezza vanno sulla stessa strada. La vita e la libertà vanno in strada esattamente opposta. La libertà accettando la finitudine umana, accettando la presenza di ineludibili relazioni alle quali siamo vincolati, in una dimensione etica, La libertà non coltiva la paura e non cerca neanche disperatamente la sicurezza da trovare in qualche mano esperta che faccia sì che il nostro disagio venga messo in silenzio. Quante persone si incontrano che fino al giorno prima esprimevano sommessamente la maschera della depressione e dopo un intervento efficace li trovate con una nuova maschera, quella della indifferenza. Certo, sembra rinato a che cosa? Non a vita nuova. È rinato semplicemente alle stesse condizioni vincolanti che l'avevano portato a vivere la sua esistenza nella incapacità di accettare le condizioni date, cioè quelle di essere capace di consegnarsi alla dimensione della libertà. Oggi il Vangelo ci parla di una persona posseduta da spirito impuro che, guardate, ha una lettura attenta a molto a che vedere con una sintesi della follia. È l'incatenamento di questa follia e la paura che è intrinseca a colui che la vive e alle persone che gli stanno intorno. Mi è venuta in mente un'immagine che è contenuta nel film La città dei matti dove Franco Basaglia entra nel reparto del manicomio e vede una persona incatenata dentro una gabbia e chiede per quale ragione quella persona è incatenata. Gli viene risposto che è aggressiva, che è pericolosa, che morde. Ovviamente nessuno a quella persona aveva più parlato. Era stato trasformato in una sorta di condizione animalesca in gabbia. Animali lo siamo tutti, ma se ci mettono in gabbia evidentemente perdiamo attraverso la negazione della libertà anche la capacità di modulare il nostro stare nel mondo. Ebbene, Basaglia chiede che venga liberata da quella gabbia. Gli infermieri si indignano, si arrabbiano, anche i colleghi lo guardano un po' stupefatto. e naturalmente la persona liberata esprime nell'immediatezza la sua aggressività e morde anche. Ma Basaglia con pazienza cerca la relazione attraverso la parola. È un caso estremo naturalmente ma è molto analogo a quello che accade in questo racconto evangelico. Gesù parla al posseduto dallo spirito impuro chiede che venga liberato dalle catene e che quello spirito impuro attraverso la parola attraverso la parola non abbiamo paura non dobbiamo aver paura della disponibilità ad affrontare le nostre sofferenze esistenziali attraverso la parola. attraverso la parola Gesù lo libera lo libera e lo rimanda alla dimensione della vita invitandolo semplicemente di andare a casa e di raccontare ai suoi l'accaduto e anche chi sta attorno a molta paura rimane stupefatto perché evidentemente se la liberazione dello spirito impuro passa attraverso la parola è qualcosa che riguarda tutti è qualcosa che non è ascrivibile soltanto alla condizione estrema la parola è qualcosa che ci interroga profondamente che ci turba perché lo spirito impuro che riconosce la potenza della parola è l'unico a riconoscerla rispetto alle persone presenti siamo nella terra dei pagani non siamo nella terra dei religiosi lo spirito impuro ha capito perfettamente dove sta il nodo critico per uscire dalle situazioni altamente problematiche e su questo vi volevo brevemente riportare un passaggio di una serie di domande che la comunità di Bose attraverso uno dei suoi componenti non c'è neanche scritto il nome un fratello di Bose di fronte a questo episodio pone una serie di domande che io ribalto me stesso a ciascuno di noi e noi noi come ci poniamo di fronte a queste forme di analogia tra quell'episodio estremo che ci racconta il Vangelo e queste espressioni di spiriti impuri molteplici che caratterizzano il vivere nella collettività rispetto ai quali ripeto non c'è stato nessun investimento in questi mesi sulla pedagogia della salute e della libertà e si è solo preoccupati che le persone prendessero le misure e fossero sanzionate se non l'avessero fatto sacro santo ma è un punto di partenza poi bisognava fare molto altro e non si è fatto si riconoscesse almeno che il modello di sviluppo che ha preceduto l'epidemia è foriero di tanti danni e questa è una grande opportunità per essere più liberi più autenticamente liberi dalle tante insensate paure che poi si trasformano in stati d'ansia come ho detto attacchi di panico tutte giustificazioni insensate che cercano di non portare la dimensione sintomatica alla dimensione della parola che svelerebbe che molti dei nostri comportamenti delle nostre aspettative dei nostri stili di vita sono in realtà qualcosa di autenticamente impuro rispetto alla dimensione dello spirito che ci caratterizza di quella dimensione della pienezza della nostra coscienza non rifugiamoci di fronte appunto a quella paura che addirittura immaginiamo che sia una malattia e che invece è semplicemente un monito che ci chiede la disponibilità a un gesto di liberazione è una nostra responsabilità giustamente il fratello di Bose dice e noi come sono le nostre relazioni vedete c'è questo noi che rimanda a una soggettività non a una collettività ciascuno di noi è interrogato è interrogato sulla qualità delle nostre relazioni qui c'è veramente lo sviluppo autentico della realtà della vita del club che non è qualcosa di incatenante ma di liberante che interroga ciascuno rispetto alle relazioni tra gli esseri umani e con l'ambiente veramente fraterne cioè che mirano alla libertà dell'altro le nostre relazioni sono veramente fraterne cioè mirano alla libertà dell'altro sappiamo e vogliamo cercare rapporti sani e trasparenti che non solo lasciano liberi gli altri ma che i liber ci liberino ma li liberino dai mille legami che insidiosamente noi stessi siamo tentati di forgiare cioè ci liberano i nostri legami e siamo disponibili a contribuire a liberare anche gli altri dai infiniti legami attraverso i quali noi ci forgiamo sto pensando appunto sempre a questa turbolenza affettiva che caratterizza gli attacchi di panico dentro quale dimensione relazionale si sono sviluppati quali relazioni affettive profonde hanno forgiato tutto questo quali sono le relazioni che aumentano la libertà in noi si chiede il fratello di Bose siamo in grado di riconoscere quelle relazioni che ci incatenano in dinamiche insane sappiamo dire il nome a questo oppure cerchiamo in mille modi di convincerci di essere liberi e capaci di liberare autoingannandoci con le nostre stesse parole che però di fatto ci frammentano e ci dividono dalla vita perché abbiamo paura della libertà che ci è stata donata guardate questo ultimo passaggio è un a mio parere una sintesi di un trattato di psicoterapia quello che ogni psicoterapea e ogni operatore insegnante di club dovrebbe esprimere una domanda che dovrebbe essere proprio fissata nel quaderno del verbale del club in ogni luogo della psicoterapia cioè questo nostro modo di porci nella autoillusione di essere liberi cioè noi diamo per scontato di essere liberi dopodiché accade una turbolenza di tristezza di disturbo ideativo di intossicazione e ci autoinganniamo perché usiamo parole insane che distinguono la libertà e la liberazione dalle parole che usiamo per rappresentare queste condizioni che oscillano continuamente tra il vizio e la malattia non si tratta né dell'uno dell'altro si tratta di forme di auto assoggettamento che si tratta che possono essere stabilizzate togliendo tutti gli elementi disturbanti gli altri oppure possono diventare il luogo autentico nel quale troviamo la forza di auto liberarci dalle relazioni insane e costruiamo la disponibilità a non costruire mai relazioni insane ecco che oggi siamo chiamati a una nuova pedagogia della libertà che si esprime attraverso una infinità di tentazioni di assoggettamento di auto forgiarci i modelli di presunta normalità ingannevole e il percorso deve essere naturalmente perseverante deve essere un cammino che non ci assoggetta a nessun nuovo nessuna nuova forma di incatenamento non è un compito facile ma siamo nel tempo del carnevale e quindi cerchiamo anche attraverso la dimensione della festa che sarà l'oggetto del prossimo seminario il 21 di febbraio che la festa cominci perché sia autenticamente una festa di liberazione non museificata attraverso le date classiche il 25 aprile ci sono tante forme retoriche di rappresentazione della libertà importanti perché ci riportano alla memoria ma non siamo capaci di vivere giorno dopo giorno la dimensione della liberazione che ha bisogno di parole liberanti rispetto alla considerazione che noi facciamo nei confronti delle relazioni che possono essere sane e liberanti o insane e incatenanti qui vi è la genealogia della psicopatologia cioè della sofferenza dell'anima che noi sempre temiamo che si possa esprimere e non vogliamo assolutamente ascoltare sia che riguardi noi sia che riguardi che riguardi gli altri buona giornata a tutti grazie a tutti